Salve a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video, io sono Leafs e oggi torniamo con un nuovo video che sarebbe la mia reaction alla season 8 Entriamo, ragazzi sono eccitatissima Comunque le skin sono molto fighe, soprattutto la banana, nei commenti hashtag francibanana Oh Non sapevo che lui era il re del fuoco ragazzi per forza Fighi ninja poi Guarda 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 Fortni di stagione 8 La X segna il punto Che cazzo è successo? No dai Ok, bella pedalli da forca Ok Ragnarok senza Paraspalle Va bene Oh Quello Naruto mi sa Quello Con la tigra, somiglia molto a Naruto Ah sono queste due cose? Va bene Sì ma non mi bagare la lobby dai Sì ragazzi che bello posso vedere tutte le immagini Allora Vi spiego Praticamente voi vedete l'immagine che sta in singolo Prima non la potevo vedere E' tutto bianco pure qua le notizie Allora andiamo nel negozio oggetti Sì vabbè Cannocchiale Carino Bellino Madonna ragazzi questo non lo vorrei tanto prendere Sentite la canzone ragazzi è bellissima Ma purtroppo I V-Bucks se non prendete a skin Pirata Veri che è anche pirata Che bello Ho supportato un creatore Pazzox Allora Fate capire qualche cosa Ah allora Ragnarok senza Sì ma che cazzo me la fai fare sta cosa? Dico io Shia Aspettate Le mod Ah Va bene Schermata di caricamento Ok Mettiamo questa Già Stendardo volante Carino Eeeh tutte le sfide Eccolo qua ragazzi Scartiamo Scartiamo gratis Oh Mi ha dato I V-Bucks No me li ho aumentati Ah Madonna mia ragazzi Jack Sparron Ibido pure meraviglioso Va bene Ok Ok 100 V-Bucks 100 V-Bucks Allora ho sbagliato ragazzi Mi avevano dato solo 100 V-Bucks Cioè avevo visto i V-Bucks che cambiavano i ragazzi Madonna ragazzi Jack Sparron Io l'ho detto che lo volevo come Sea of Thieves questo Oh mio dio Così inquietante però eh Undici stili Quanti stili Rosso è bello Blu è bello Nero pure è bello Vado Bianco Bellissimo Ibrido Bellissimo Bello Anche questo No Questo non mi piace No Questo non mi piace Non mi piace Blu Bello Carino Nero Tutta la vita Viola Bellissimo Ah Che non mi ha laggato Allora Cobra Le dei serventi Carino come Allora qua possiamo già vedere una medusa Isola del tesoro Carina sta sta musica Nooo Povera buccia di banana Carino sto ballo E quanto ta marra sto sto detta plano Buongiorno Claudio sto facendo il video della mia reaction Ah questo è quello del trailer della Sion 7 Carino Ah vedete questo che fece a Fran Questo sto già giocando Si ho finito veloce Bellissima sta skin C'è un cobra sopra Intesso Va bene Cos'è uno slime questo Tappetino Da ballo Vediamo qua sta copertura Ah è oro e legno praticamente sta copertura È molto più bella di oro e carbonio che fa davvero schifo Sulla mitelletta c'è un tot Pure sul cieco Sul cieco lo fa sembrare dei pirati Ma cosa? Ah sta a fare... Ah regina dei ghiacci Va bene Ma che cosa devo vedere? Cenere Ah no Claudio hanno fatto un emote che praticamente se cammini rimane l'emote È bellissima sta cosa È bellissima sta cosa Molsi pirata Fantasma Bellissimo Dai il cellulare pure Guarda il sound di questo piccone Ah le uova stesse Lucchetto Non mi piace Non mi piace Non mi piace Ancora ancora venti minuti Questo non mi piace Sembra troppo dei magli Ah boh, vedete la derivi Bello Bellissima Bellissima Eh bananita Una banana al giorno non toglie sempre il medico di torno Matura e cambia colore durante la partita Bellini questo è perfino ragazzi Spettava da tutta la vita la skin della banana ranger dell'amore io c'ho quello ibrido ah questo si trasforma è una schermata di caricamento che si trasforma carina questa è una volpe spongebob bello tropicale no ragazzi l'hanno messa no bellissima questa poca la sblocco è il ranger dell'amor perduto ok io grima bello e che cosa dov'è reattivo si ma reattivo che cosa oh che scrivo uno sconafaggio lava carina gg medusa no questo non mi piace tanto cos'è un delfino viene na 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 carino stai morto collage di spray ah si hanno fatto il collage di mini e morto ora fanno il collage di spray mira con una mano ferma è di fuoco bella cos'è è la fila del re di fuoco cos'è bello questo spray forse me lo metto accordo potente ah io ho il ballo di accordo potente manto di tigre già è più bella mi ricordo un po' sandokan coccoloso uè ma c'è una piovra ma che schifo non so se lo metterò mai sull'etaplano che forse mi fa un po' schifo è della verità vabbè per ora niente di che carina ballistica ah è il lama il lama del ma cos'è naruto dai è naruto per forza questo guardate i capelli c'è pure la banana vulcano fuodioso lusso carino potenza stellare non lo sento neanche perché non mi piacerà sicuro ah acnidi ah beh lì questo è il set ma perché mi riporta qua scusate maestro dell'uva oppo gira e rigira l'olio d'oliva pietra preziosa tanta roba chiave master maschera ah e si sblocca qua bella pure questa per la cazzuta lusso vediamo tutto qua tutto qui ma veramente mi avete fatto una skin così tutto qua ma mettimi questo all'inizio alla fine non quella che fa schifo vabbè ragazzi io per ora questi me li metto i preferiti perché dai ragazzi come potremmo mettere lui dai è Jack Sparron praticamente con le ali nere pure questo non mi piace tanto somiglia a quella del vabbè ragazzi che vi devo dire la lobby è buggata aspettate un attimo che lezioniamo la modalità di gioco poi dopo vado anche su salve al mondo perché devo vedere cosa è cambiato là perché ho saputo che ha cambiato un botto salve al mondo è stato evoluzionato bellissimo 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 ma se io ballo tipo qua guarda che passa bellissimo ragazzi bellissimo fatemi cambiare il standard adesso con il standard posso mettere dai metto questo colore verde perché questa season è il tema no giallo perché questa season è gialla vabbè ragazzi noi ci vediamo con il prossimo video bella ciao